Buongiorno a tutti, mercoledì 31 gennaio ci siamo, sempre più vicini alla grande sfida, sempre più interriuve, partita decisiva e fondamentale per il campionato, per la rivalità, per tutto quello che succederà, oggi riapre a Piano Gentile dopo i due giorni di riposo, ieri hanno comunque lavorato Barella e Cialanoglu che avevano riposato domenica, quindi anche qua rispetto sempre massimo del gruppo per cercare di andare a vincere questa partita così importante per lo scudetto, la seconda stella e bisognerà dare veramente tutto. Prima di qualsiasi notizia iscrivervi al canale, mi raccomando, trovare nuovi iscritti, aumentare il nostro anche volume per farci sentire sempre di più, poi parleremo di mercato, di proprietà, l'avevamo detto, no? Settimana di interiuve, non possono non uscire articoli sul futuro dell'Inter, ci mancherebbe altro e poi i vostri messaggi come al solito, obiettivo 50.000, iscritti forza, spammate il link del canale e iscrivetevi anche al gruppo Telegram Marco Barzaghi Inter e come Whatsapp lo scaricate nello storio del vostro telefono e poi vi iscrivete. Allora, derby d'Italia, sfida di nervi, le provocazioni del maestro Allegri, le bordate gelide di Capitano Lautaro. Cominciamo con questo articolo del Corriere della Sera per entrare in clima mentre si sta preparando il tè caldo più famoso di YouTube. Nel calderone c'è tutto, personalità, coraggio, strategia. Magari per qualcuno anche un po' di timore interiuve è la scossa che ti trascina in un'altra dimensione, un ring virtuale in cui hai sempre di fronte l'avversario, puoi colpirlo anche da lontano. Domenica si gioca, ma il derby d'Italia a versione Scudetto va avanti da settimane, aggiungiamo andrà avanti fino al 26 di maggio. È il gioco di ruoli che accende il campionato, un duello dialettico con identici obiettivi ma protagonisti diversi. La Juve ha un grande mattatore allegri, l'Inter si affide in campo a Capitano Lautaro e al generale Acerbi. Il tema ricorrente riguarda l'onere di portare addosso l'etichetta di favorito. Il punto cardine della battaglia verbale di Max che dopo il pareggio con l'Empoli ha ribadito. Andremo a San Siro con l'obiettivo di far risultato contro la netta favorita per lo Scudetto. Un concetto proposto anche in forme più fantasiose. Il paragone con il gioco guardie ladri, noi cacciatori, se c'è qualcuno davanti, dietro c'è chi insegue. Come a sottolineare la distanza che nelle previsioni di inizio stagione doveva separare Inter e Juve. Max impone ritmo e alza il livello. Di provocazione quando necessario, noi Sinner e loro Diokovic? Non so, poi la prendono male, sono permalosi. Ma soprattutto nasconde dietro il suo carisma, i suoi ragazzi. Si fa fatica a trovare parole dei giocatori juventini sullo Scudetto. L'unico a esporsi è stato Scesni e ancora di più verso i colleghi interisti. Sull'altro fronte invece Inzaghi resta sotto coperta e smorza i toni. Sia per chi si lancia in facili entusiasmi, dopo Firenze ha ammonito vittoria non decisiva come non sarebbe decisivo battere la Juve. Sia per chi lo vorrebbe turbato dalle provocazioni stilettate di Allegri. Le sue frasi non mi hanno dato fastidio, non penso ci sia stata maleducazione. Così a schierarsi sono stati due pretoriani, Lautaro ha scelto poche ma accurate parole dopo il Franchi. Proseguiamo per la nostra strada senza guardare e parlare di nessuno, quasi a sottolineare la differenza tra noi e loro. Un mese fa Cervi infiammato dalle critiche per un pareggio a Genova è stato più diretto. Abbiamo perso Brozovic, Dzeko e Lukaku, dicono che dobbiamo stravincere il campionato ma la Juve ha speso 200 milioni per Vlaovic, Chiesa e Bremer. Noi abbiamo preso giocatori a zero e ecco che torna il solito onere. Chi è che non può fallire? Ieri la Juve ha ripreso a allenarsi, oggi tocca all'Inter, sabato in conferenza stampa, nuovo round verbale, domenica parlerà il campo, unico vero giudice. Ma proprio agganciandoci a questo articolo vi ricordate quanto tuonò tutto il sistema per il pareggio contro il Genua in esterna? Vi sembra che sia successa la stessa cosa in questi giorni e vi fa capire il livello, la difficoltà, gli ostacoli e come l'Inter dovrà essere più forte di tutto e tutti con Inzaghi che non accetta provocazioni e un po' così tutto l'ambiente nerazzurro con Lautaro che sottolinea sempre noi dobbiamo pensare e andare per la nostra strada, pensare solo a noi stessi ma il discorso poi è più ampio e bisogna tenere altissima la concentrazione, capire quanto è fondamentale lo scontro diretto di domenica perché l'Inter si trova davanti quasi in maniera inaspettata nonostante la partita in meno e quell'asterisco che può trasformarsi da ossessione e paura in un alleato molto importante, quindi bisognerà cercare la partita perfetta provarla a vincere ma senza scoprirsi troppo, senza offrire lo spazio di ripartenze a una Juve che recupera tutti, che giocherà con Blaovic che non è più quello delle ultime sfide ma è un giocatore totalmente ritrovato e decisivo con il Diz che con le sue sterzate, con le sue accelerazioni sarà uno dei pericoli pubblici più importanti Chiesa partirà dalla panchina, ha recuperato McKennie fasce, terreno di scontro e anche quello fondamentale per l'esito della gara e poi naturalmente le invenzioni delle panchine che potranno dire la loro in questo senso aggiorniamo perché alla fine nella notte la Juventus ha messo a segno il colpo che quasi sembrava non dovesse arrivare anche per i rigidi paletti imposti dalla proprietà, dall'indice di liquidità anche se devono ancora a Torino trovare una sistemazione a Moise Ken fallito, fallito il suo approdo all'Atletico Madrid quindi non sarà avversario dell'Inter in Champions dopo le visite mediche superate ma che hanno denotato una condizione nettamente lontana dal rientro in campo Simeone ha stoppato tutto perché vuole un giocatore pronto subito e non vuole aspettare tre settimane anche perché poi appunto c'è la Champions e lui vuole avere a disposizione far turnover e ruotare i suoi effettivi per la massima competizione dunque rispedito a Torino Moise Ken in cerca di sistemazione non facile in quest'ultimo giorno di mercato domani ore 20 si chiudono le liste la Fiorentina sembra aver ormai chiuso per Belotti quindi si chiude anche quella opzione per Moise Ken il Monza ha preso Diuric non lo so forse la Salernitana che sta cercando una punta sicuramente è un problema ma la Juve torniamo alla notizia che diversi poi giornali non sono riusciti a inserire e dunque ve la diamo noi ha preso quel Carlos Alcaraz che non c'entra niente con il tennista spagnolo e che potrebbe far arrivare e nascere sicuramente farà rinascere anche altri nuovi meme quindi dopo Sidner, Djokovic la Juve si prende al Caraz titolo già fatto talento argentino in forza Southampton l'anno scorso un discreto campionato in Premier League nonostante la retrocessione dei Saints quest'anno in Championship una stagione normale un metro e 76 68 kg 21 anni classe 2002 ce lo ricordiamo a Racing è un giocatore molto duttile quest'anno ha fatto 3 gol e un assist l'anno scorso 4 in Premier può giocare trequartista mezzala anche punta seconda punta l'avevamo analizzato proprio perché l'Inter aveva provato a prenderlo prima che andasse in Inghilterra una scelta abbastanza discutibile la Juve lo prende in prestito con diritto di riscatto importante per una cifra vicina ai 40 milioni un rinforzo per lo scudetto che dunque arriva dopo Jalot soffiato all'Inter e fatto arrivare subito a Torino adesso un giovane in prospettiva da capire se poi le modalità di riscatto e se la Juve veramente andrà a spendere una cifra del genere mi sembra un po' difficile visto che l'obiettivo conclamato designato è quello di andare proprio a pagare una cifra simile magari anche leggermente più alta ma con la possibilità di inserire giocatori per quel copminers che ha fatto tanto bene negli ultimi anni che piace moltissimo a Giuntoli adesso però questo Jolly per il centrocampo che potrebbe dare qualche cosa in più ad Allegri per ovviare alle squalifiche di Fagioli e Pogba da inserire in squadra per questa lunga volata Scudetto che va e andrà a chiudersi poi a maggio abbiamo detto si torna a lavorare da piano ieri all'anno già ricominciato a fare Barella e Cialanoglu gli ostacoli le trappole possono diventare dei grandi vantaggi freschi con un programma di lavoro personalizzato per tirare essere decisivi domenica tirare il gruppo essere decisivi contro la Juve risparmiato anche di Marco parzialmente a Cerbi si va verso la formazione tipo in cui non credo ci possa essere spazio per un Dufris ancora lontanissimo dagli standard di inizio stagione dopo l'infortunio non si è mai più ripreso al suo livello penso che un po' abbiano influito anche le trattative fallite per il rinnovo e la situazione è anche contingente c'era stato un sondaggio del Bayer Monaco intorno a Natale che magari ha creato qualche distrazione e sappiamo l'avevamo già visto l'anno scorso come il giocatore sia molto sensibile si faccia influenzare da quello che gli accade all'esterno periodo molto difficile pre e post mondiale voci di mercato poi si è ripreso nel finale di stagione aveva iniziato molto bene e adesso ci si aspetta che torni ai suoi livelli lezioni intensive di italiano per Buchanan proprio per avere anche un modo in più per parlare in campo con i compagni anche se molti sono stranieri in inglese si possono capire molto bene sta procedendo il suo inserimento adattamento la sua crescita anche tattica però Inzaghi aspetta sempre un bel po' prima di inserire i nuovi acquisti l'aveva fatta anche con Onana e anche lì secondo me ebbe ragione perché non rischiò di metterlo in porta proprio nel periodo di inizio stagione più difficile per l'Inter che avrebbe potuto bruciarlo subito e studiò molto bene il suo utilizzo e poi lo fece esplodere piano piano direi quindi formazione tipo con Darmian a destra che potrebbe essere l'unico dubbio perché poi Sommer Pavard acerbi bastoni con appunto Darmian in vantaggio su Dunfris a destra a sinistra Di Marco Fresco in mezzo al campo Ciananoglu e Barella con programmi appunto personalizzati Mkhitaryan Lautaro Turam che sono anche stati in parte preservati a Firenze tolto al sessantesimo Turam dieci minuti dopo Lautaro cose mai viste e che fanno capire come questa partita sia così determinante decisiva per il futuro per lo scudetto qualcuno continua la narrazione che ha tutto da perdere l'Inter e la Juve niente per aumentare pressione e quant'altro che si ritrova anche sulla situazione societaria che torna a far capolino come avevamo previsto sui giornali su quale provate a indovinare Corriere dello sport leggiamo come viene descritta la situazione tutto sulla seconda stella obiettivo di questa stagione cosa però ne sarà dell'Inter lecito chiederselo visto che tutto è ancora in sospeso per quanto riguarda la restituzione del prestito a Oktri che impegna le azioni del club si sa solo che Suning dovrà corrispondere al fondo americano oltre i 275 milioni ottenuti tre anni fa anche gli interessi per un totale che supera i 3,50 abbiamo detto 3,83 se non altro c'è chiarezza sulle intenzioni di Steven Zhang ovvero trovare un ulteriore istituto finanziario che conceda un altro prestito attraverso cui pagare il dovuto a Oktri prendendo così altro tempo per restituire il denaro il nodo sono gli interessi con cui chiudere questa operazione sarebbero alti e il presidente interista si sta adoperando per ottenere le migliori condizioni possibili secondo Rumors gli interlocutori con cui ci sono tavoli aperti sono sempre statunitensi solo che oltre a non essere facile il tempo sta ormai stringendo se la scadenza di maggio non verrà rispettata le azioni del club nero-azzurro finiranno appunto a Oktri che difficilmente le terrà ma cercherà un compratore sempre che non l'abbia già trovato a ogni modo l'eventuale rifinanziamento del prestito non potrà chiudersi all'ultimo momento il processo da avviare dovrà cominciare necessariamente prima infatti entro fine febbraio scenari e prospettive saranno inevitabilmente più cari in un senso o nell'altro mi sembra che le avevamo già anche risentite queste cose si diceva a fine gennaio e siamo già arrivati però presto si saprà portare avanti una stagione così importante in mezzo a tanta incertezza non può essere semplice continua il Core Sport merito quindi alla dirigenza di Viale della Liberazione che si adopera perché l'intera macchina nerazzura proceda come se nulla fosse il rendimento di Lautaro e compagni è la migliore dimostrazione dell'efficacia del lavoro in questo senso peraltro da nanchino su questo tema non arrivano input particolari Steven manca da Milano dalla scorsa estate non ci sono segnali che possa sbarcare in Italia in tempi brevi niente è cambiato però nel suo atteggiamento si comporta come se non ci fossero scadenze come se la continuità nella proprietà del club non fosse in dubbio ma scontata anche il via libera all'innesto immediato di Buchanan allora va inteso in questo senso lo stop di quadrato aveva creato un vuoto e Zhang Junior ha dato il via libera per coprirlo l'ho fatto anche perché Marotta ausilio e bacini sono riusciti a ottenere condizioni favorevoli dal Bruges ossia 7 milioni e mezzo più bonus esterno canadese è anche una prima pedina per l'Inter che verrà perché per quanto riguarda la squadra la programmazione non si è fermata anzi Taremi scadenza col porto è da considerare già un giocatore nerazzurro per la prossima stagione al suo rientro la Coppa d'Asia firme sul contratto oggi gioca l'Iran vediamo appunto quale sarà il risultato a meno di sorpresa anche Zilinski anche se magari ci vorrà un po' più tempo per formalizzarne l'ingaggio l'unico interrogativo allora è chi ci sarà il comando dell'Inter quando arriverà il momento di annunciarli una prima risposta potrebbe arrivare già nel giro di un mese e nel segno della continuità ci mettiamo anche gli assalti falliti e riespinti per Carboni che secondo me sono un'ulteriore indicazione su un progetto che va avanti insieme a tutti i rinnovi già fatti a quello di Lautaro che continua a essere in via di definizione secondo me porterà a un aumento dei bonus proprio vista l'ennesima grande partita partite di Lautaro Martinez nelle ultime due situazioni gol Supercoppa gol Fiorentina aspettiamo anche domenica a questo punto e poi credo che si vada a trovare un accordo per blindarlo e portare la scadenza del suo contratto al 2028 Balotelli qualcuno ha tirato fuori Balotelli è chiaro che chi lo gestisce stia cercando una squadra però lo possa aver proposto un po' a tutti per vedere se c'è veramente qualcuno interessato ma come avete capito come si è capito dalla fiducia che ha Inzaghi e anche la dirigenza negli attaccanti attuali comunque che hanno fatto il loro decisivi in Supercoppa Sanchez con quella verticalizzazione che ha portato al gol Arnautovic ha lottato ed è stato comunque utilissimo per far salire la squadra per portare a casa anche la vittoria di Firenze sebbene ancora lontano dalla condizione migliore e sempre un po' lento e legnoso anche per quell'infortunio che ne ha spaccato in due la stagione facendogli perdere tutto il lavoro fatto in preparazione quindi grande fiducia neanche si prova a riportare un giovane ed è questa la dimostrazione che non c'è proprio l'esigenza non viene considerata tale il problema dell'attacco secondo me e tanti un rinforzino sarebbe utile proprio per non rischiare di finire con la coperta corta ma c'è proprio quel Buchanan che potrebbe giocare come attaccante aggiunto Mkhitaryan frattesi che possono essere alzati anche Klasen che sta giocando così poco che però è uno che fa gol che ne ha fatti sempre tantissimi ovunque ha giocato e che sta avendo pochissimo spazio sono tutte risorse in caso di bisogno su cui potrà attingere Simone Inzaghi sperando che non ce ne sia bisogno che il rendimento e la continuità dei due titolari non venga mai a mancare fino alla fine del campionato anche se poi arriverà a febbraio anche la Champions con le due sfide con l'Atletico Madrid che porteranno via energie fisiche mentali sperando di non perdere punti nella corsa allo scudetto che vedrà anche il 28 di febbraio il recupero con l'Atalanta poi dopo la Juve la Roma e poi arriva l'Atletico Madrid insomma periodo stra di fuoco che l'Inter deve provare a superare indenne per poi scollinare questo febbraio marzo e provare a buttarsi in discesa verso il traguardo quindi Balotelli la proposta ci potrebbe anche essere stata ma non ci risulta assolutamente tanto meno come vi abbiamo sempre detto movimenti sull'attacco né Benzema a suo tempo l'avevamo subito definita fake altrettanto questa così come le voci di un Simeone alla Cruz e quant'altro avete visto insomma potete capire sempre la qualità e quello che vi portiamo qui sul canale andando anche a esaminare tutte le voci più o meno attendibili e cercando di trovare quando ci sono fake news anche il modo di spiegarvele e di mettervi sull'attenti quindi fate crescere il canale Taremi e Zilinski questi i prossimi colpi ci sarebbe anche quel Rafa Silva che continuiamo a sottolineare che è in scadenza con il Benfica e secondo me è un'occasione a zero da farsi delle valutazioni perché così veloce e rapido può essere veramente un rinforzo molto molto interessante situazione Sensi in stand by non è ancora arrivata la la firma dell'Eister quindi aspettiamo ancora a darlo per concluso totalmente anche se ci hanno ribadito che non ci sono problemi complessivamente 3 milioni dovrebbe essere un prestito di 500 mila euro e poi alla promozione un bonus di 2 e mezzo attendendo attendendo che il Leister faccia arrivare tutta la documentazione per poi far partire il giocatore verso questa sua nuova avventura inglese questa sua nuova opportunità che dispiace un po' per come sia andata la tutta la la storia bastoni entra in diffida quindi attenzione a cartellini gialli perché poi salterebbe la partita con la Roma la fiorentina nel frattempo sta insistendo in modo pesante su Gudmundson sembra che possa arrivare anche a 30 milioni l'offerta al Genoa e sarebbe un gran colpo l'abbiamo detto un giocatore che completerebbe benissimo il reparto offensivo dell'Inter con la sua qualità velocità capacità di fare gol di legare anche tra i reparti di giocare tra le linee vedremo se l'assalto viola andrà a buon fine una fiorentina che sul gong si sta muovendo in modo forte sul mercato con Belotti riuscisse a mettere anche Gudmundson cambierebbe totalmente la squadra viola che vuole il quarto posto la Champions che sarebbe un upgrade fondamentale ma torniamo alle cose di casa nostra torniamo soprattutto ai vostri messaggi alle vostre considerazioni fanno ridere adesso tutti quelli che in estate ne dicevano di tutti i colori sull'Inter sul mercato dell'Inter sui giocatori che se ne erano andati fortissimi quelli invece arrivati non a livello e che adesso sono tutti sul carro a gioire e a gasarsi ogni ogni domenica per i risultati e la classifica è ancora lunga e su qualsiasi tipo di argomento e giudizi sempre e solo alla fine in ogni caso allora non parliamo di altri evitiamo anche di fare nomi capisco che determinate interpretazioni soprattutto di episodi arbitrali su qualche canale vi diano particolarmente fastidio però evitiamo di far nomi Rodigian chiede di continuare a motivare proprio con tutte queste voci ambienti attacchi perché sono un ulteriore stimolo per la squadra così come Cassandra che chiede un'altra battutina di Allegri perché secondo lei portano bene soprattutto prima della partita Car Tonino saluta tutti voi vi auguro una buona giornata Nonna Novella sono sicura che domenica ce la faremo grande Nonna saluto tutti gli interisti domani mi operano speriamo bene un in bocca al lupo allora Nonna speriamo veramente tutto bene facci sapere qualcosa se ci mandi proviamo anche a chiamarti Tony testa solo alla Juve asfaltiamoli e teniamoci il posto che ci spetta più 4 con l'asterisco Valerio dice la pressione sulla Juve se perdono è mezzo scudetto per noi calma piedi per terra sempre Grego così la tocca piano tonali 80 milioni di Marco 40 e poi una serie di smile la vittoria contro la Fiorentina è stata fondamentale per mettere un po' di pressione in più alla Juve contemporaneamente alleggerire il cuore all'Inter Cuzzo guardarli dall'altro è sempre meglio gli asterischi a parte ogni punto in più è puro ossigeno Roberto Stomaci vi saluta Joseph Mega anche adesso sembra esserci l'assalta a molti dei nostri ragazzi forse anche al nostro mister speriamo che la situazione societaria si possa chiarire al più presto per blindare tutti i nostri campioni ma mi sembra che è quello che si stia facendo Piero Naselli in attesa allo scontro diretto che dobbiamo vincere ma senza rischiare senza esporci alle ripartenze mettere fiene in cascina per un eventuale inciampo essere sul pezzo attenzione attenzione Adani dice Sommer stai attento che se prendi la palla con le mani ti fischiano rigore contro un po' di ironia ti voglio bene mi dice Anthony grazie il regalo più bello è stato quello di conoscerti passare una bella serata con te ti fare la nostra inter vicini di sedia grazie continua sempre così che gente come te professionali come te ce ne sono poche grazie Anthony per il bel messaggio i due giorni liberi posto Fiorentina credo che siano stati una grande idea di un grande allenatore Gianni Balestra saluta dal Canada Fernando Giovanni Monopoli aspetto qualche altra pillola di saggezza di Allegri visto che portano bene anche lui scherza su questo fronte la vittoria di Firenze Paolo Giulio Valdi e il pareggio della Juve sono di importanza fondamentale per togliere un po' di pressione a noi e trasferirla ai bianconeri Francesco Zappalà uniti per la gioia forza grande Inter sempre amala Arturo penso che Allegri farà una partita difensiva sperando qualche ripartenza poi salutiamo Giuseppe altro che Summer aria fresca nello scantinato sono fiducioso per il giorno 4 Paolo sottolinea in due settimane abbiamo giocato e vinto con Lazio Napoli Fiorentina e giochiamo con la Juve Antonio Achilli secondo me quella radio è Radio Radio che ho seguito per anni e ora non li seguo più mi sa che hai nominato Enzo mi sono piaciuti tutti con la Viola anche Aslani crescerà molto uniti compatti e motivati Germanico vi invita la compattezza salutiamo anche Paolo Vismara tutti i nostri abbonati Massimo Cattaneo Larita e tutti gli amici sempre presenti sul canale mi raccomando finiamo con un po' di titoli seconda stella Inter questo è il cammino Maresca dovrebbe essere Maresca l'arbitro della super sfida di domenica dalla montagna allo scudetto la ripresa ieri no oggi errore sul Corriere dello Sport andiamo sulla gazzetta il titolo del Corriere dello Sport prova a prendermi con lo scontro tra Lautaro e Vlaovic che insegue anche in classifica dei cannonieri gazzetta dello Sport assalta al trono Sinner che vuole il numero uno poi attenti a quei turchi con Cialanoglu maestro di Ildiz in una sfida nella sfida tra due compagni di nazionale 3-5-2 diversi che si affronteranno tra Allegri e Inzaghi con Alcarazzi in arrivo ne parliamo stasera e mi raccomando aperitivo che si affronteranno Grazie a tutti.